Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione in questo bellissimo mare caraibico oggi parleremo ragazzi di felicità perché la gente quando arriva l'estate le vacanze più felice rispetto a tutto il resto dell'anno ti sei mai fatta questa domanda perché da piccolini parte tutto sempre dall'infanzia il 90% e oltre della gente si gode il sole, la vacanza, l'estate e questo porta felicità perché di solito anche quando i genitori non lavorano l'estate danno più attenzione ai figli, non c'è la scuola perché scuola tante volte vuol dire dolore, sacrificio ok per cui ci siamo fatti tutti ipnotizzare da piccolini dai nostri genitori le prime figure autoritarie e siamo arrivati a inconsciamente, non con la ragione, attenzione inconsciamente a farci convincere a essere più felici quando il sole brilla nel cielo poi ci sono i materialisti, i meccanicisti, i quali pensano che con il sole si sviluppa più, si produce più melatonina bla 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 e ci sta, nessuno dice il contrario perché una cosa non esclude l'altra, perché mente e corpo sono una cosa sola cioè quando tu pensi, immagini, provi, emozioni positive, che cosa succede? che il tuo corpo si cerne anche ormoni positivi ecco perché l'ipnosi di CS vera e professionale o l'ipnosi vera e professionale in generale agisce sulla mente e sul corpo perché le suggestioni anche negli audio mp3 di CS che trovi sul sito internet in base al problema o al bisogno che vuoi risolvere o vuoi soddisfare parlano in modo specifico con arte alla tua mente perché faccia il miracolo della stessa mente anche nel corpo e non soltanto nella mente e nella vita visibile e invisibile per cui tu adesso, finite le scuole, finito, qua sta per finire anche il periodo di lavoro inconsciamente colleghi, associ la tua mente, il tuo subcosciente, l'88% della tua mente il tuo pilota automatico, il tuo genere della lampada radina associa felicità ad estate, a mare ripeto, per la stragrande maggioranza per cui divertiti, approfitta dovunque tu sia dell'estate perché c'è molta gente che si diverte anche senza il mare ma se c'è il mare ti diverti di più, ti rilassi di più oppure usa degli audio mp3 di CS che veramente ti rilassano come non mai e ti fanno raggiungere quegli obiettivi che ti sei prefissato se segui le istruzioni, molto facile, alla prova di un nonno, alla prova di un figuro, alla prova di un idiota ok? Per cui ti auguro un buon inizio di vacanze se stai facendo le vacanze oppure un buon inizio di maggiore rilassamento dopo sto periodo di paura che ci ha assalito un po' tutti in ogni parte del mondo e anche ancora un po' continua speriamo che finisca il più presto possibile fammi tutte le domande del caso io ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino e fai share con amici perché può essere quella chiave, quel quid che gli può cambiare la vita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi, soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino da questo bellissimo mare caraibico ti do un bacio e un abbraccio alla prossima ciao